come sapete mister bassetti è stato ospite del 79esimo festival del cinema a venezia l'abbiamo visto sfilare sul red carpet le tapis rouge vabbè dai il tappeto rosso siamo in italia e chiamiamo le cose in italiano ci sto ci sto e perché era lì mister bassetti cosa c'entra uno dei più grandi televirologi italiani con il festival del cinema l'ha spiegato in un'intervista che vi risparmio e dice che era lì per ritirare un premio quello che voglio proporvi però sono 18 secondi di quell'intervista durante i quali tra le grida della gente in sottofondo dice qualcosa di assurdo ho messo i sottotitoli in modo che sia ben chiaro ciò che lui ha detto ma che ne sembra? mi sembra molto bello molto bello è una vittoria dei vaccini tutti senza mascherina perché ci siamo tutti vaccinati ci siamo tutti ammalati ci siamo fatti gli anticorpi anche per venire al festival del cinema avete capito? ripetiamo testuali parole tutti senza mascherina perché ci siamo tutti bazzinati ci siamo tutti ammalati e ci siamo fatti gli anticorpi anche per venire al festival del cinema e allora io non sono laureato in medicina e quindi non posso parlare no condizionale non potrei ma parlo perché non posso stare zitto dal corso di biologia del liceo io ricordavo che gli anticorpi si formano dopo che hai contratto il virus e preso la malattia e non ci hanno mai detto che occorreva una sostanza intermedia perché avvenisse il processo cosa ci ha svelato lui che ci hanno fatto bazzinare anzi vi hanno fatto perché io quella roba in corpo non ce l'ho per farvi ammalare in modo che si formassero dentro il vostro corpo gli anticorpi avete capito ecco svelato l'arcano però attenzione all'inizio cosa dicevano chi fa il bazzino non si ammala vabbè poi si è ammalato sì però non finisce in ospedale vabbè in ospedale c'è finito però non va in terapia intensiva in terapia intensiva c'è finito però non muore è morto però muoiono di più non bazzinati muoiono di più i bazzinati e mo cosa dicono adesso dicono che bastavano gli antinfiammatori mister bassetti dice che lui cura ad aprile 2020 con l'aspirina e poi ci viene a dire giriamo tranquillamente perché abbiamo fatto tutti il bazzino ci siamo tutti ammalati ed ora abbiamo gli anticorpi avete capito visto che vi è tanto piaciuto concludo così è proprio una schifezza ma che ne sembra? mi sembra molto bello molto bello è la vittoria dei vaccini tutti senza mascherino tutti senza mascherino perché ci siamo tutti vaccinati e ci siamo tutti ammalati e ci siamo fatti gli anticorpi anche per venire al festival del cinema voi che idea vi siete fatti di tutto questo? fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale a